E' stata pubblicata l'iscrizione definitiva dell'olio di Puglia nell'elenco delle indicazioni geografiche protette nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, marchio IGP riservato all'olio extravergine di oliva, ottenuto da olive però provenienti dalle seguenti cultivar nazionali, a prevalente diffusione regionale come la cellina di Nardò, la cima di Bitonto, la cima di Melfi, il Frantoio, gli Arola Salentina, la Coratina, la Favolosa, il Leccino, la Paranzana presenti negli oliveti da sole o congiuntamente misurano un inferiore al 70%. Possono concorrere altre anche varietà fino ad un massimo del 30% con tutte le fasi del processo di produzione, coltivazione, raccolta e olificazione che devono però avvenire nella zona geografica delimitata. Il marchio IGP, olio di Puglia, sarà ben riconoscibile per il logo distintivo caratterizzato da un'antica moneta romana che simboleggia l'unità della regione Puglia ed il suo legame storico con la coltivazione dell'olio. Il brand IGP, olio di Puglia, è un progetto di trasparenza e valorizzazione, ha spiegato col diretti Puglia che, come dimostra il disciplinare, punta decisamente sulla qualità e sulla distintività in una regione che produce oltre il 50% di olio extravergine italiano. E' stata data anche una risposta alla storica carenza di programmazione con un vero sistema di filiera che ha riproposto l'attenzione dell'opinione pubblica. Un paradosso tutto pugliese, spiega Savino Muralia, presidente di Colliretti Puglia, ovvero forti nella produzione e deboli sul mercato, un assioma per nulla decifrabile e comprensibile e che la dice lunga sulla complessità del sistema produttivo indebolito da avventurieri. Quella per l'olio di Puglia è la nona IGP riconosciuta alla regione, dopo i riconoscimenti per la lenticchia di Altamura, la burrata di Andra, la cipolla bianca di Margherita, l'uva di Puglia, il carciofo brindisino, l'arancia del Gargano, il limone femminello del Gargano e le clementine del Golfo di Taranto. Lo stoccaggio, l'imbottigliamento e il confezionamento devono avvenire, riferisce sempre col diretti Puglia all'interno della zona geografica delimitata entro e non oltre il 31 ottobre successivo all'annata olearia di produzione.